eccoci qui con le auricolari a ok auricolari bluetooth abbiamo il tasto per la risposta quando ci arrivano delle chiamate queste sono le auricolari con il bilanciere del volume qui vediamo l'arco con una fascetta per regolare il cavo da quest'altra parte abbiamo i comandi per la musica tasto play pausa e il bilanciere per passare alla canzone successiva o a quella precedente qui vediamo ancora l'arco all'interno delle auricolari abbiamo ovviamente l'ingresso per la ricarica nonché la levetta per l'accensione spegnimento e di fianco vediamo il microfono